...dell'attore Ivano Marescotti, commentato dal professor Marco Marangoni. Mentre gli ultimi di voi entrano e si accomodano, lasciatemi dire un paio di cose. Allora la prima, forse alcuni di voi mi avranno già sentito dire questo perché non è la prima volta che li vedo in arena durante questo mese di giugno, però vorrei ripeterla perché comunque siamo al 30 di giugno, siamo alla fine del mese, abbiamo alle spalle un mese di eventi in arena comunale, in piazza, in centro storico e quindi credo sia arrivato anche il tempo di un primo bilancio. E quello che voglio dire è che questa ripresa noi l'abbiamo fortemente voluta, abbiamo lavorato molto dai mesi in cui ancora non c'era il DL Franceschini, c'era ancora il coprifuoco, quindi non si sapeva ancora esattamente quando e a quali condizioni si sarebbe potuti ripartire. Eppure ci abbiamo creduto, abbiamo lavorato per poter ideare, progettare e poi mettere in scena una serie di spettacoli dallo scorso primo giugno e questi spettacoli poi proseguiranno, avete visto questa sera è in distribuzione anche l'Opuscolo, il Deplian con gli spettacoli di luglio, andranno avanti per tutta l'estate in ragione più o meno di uno al giorno. Quindi abbiamo lavorato tanto, abbiamo lavorato innanzitutto lo dovevamo agli operatori culturali che hanno sofferto sicuramente, sono state una delle categorie più colpite sia durante la chiusura di quest'anno sia durante la chiusura dell'anno scorso e poi agli spettatori perché effettivamente tutti eravamo molto stanchi di fruire di occasioni culturali davanti a uno smartphone, a un pc, volevamo tornare alla socialità, allo stare insieme in teatro, in arena e quindi volevamo ripartire. E volevamo ripartire con spettacoli di qualità perché io l'ho sentito dire, molti dicono ma tanto le persone hanno voglia di tornare fuori e quindi è normale avere tanto pubblico, in realtà noi crediamo, almeno io credo fermamente che se tu gli dai al pubblico un mese di karaoke, barzellette da caserma, quel pubblico viene e poi va a casa e non rimane a vedere lo spettacolo e non torna più la seconda sera. Quindi credo che sia stato molto importante in realtà aver lavorato anche tanto sulla qualità degli spettacoli e vedere l'arena piena stasera da tutto esaurito come abbiamo visto in tante altre occasioni, così anche in piazza col Festival Strade, l'Art in Circo, un po' tutto quello che c'è stato in questo mese, diciamo che ci dà ragione dell'operazione che abbiamo fatto ed è la migliore compensa per il tanto lavoro che abbiamo svolto. Non l'abbiamo svolto da soli, non l'ho svolto da solo come assessorato alla cultura ma mi sono state d'aiuto tante associazioni del territorio, la Proloco e soprattutto l'ufficio cultura e turismo del nostro comune che non si è risparmiato un attimo e chiederai per loro il primo applauso della serata. Grazie. 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 Grazie a tutti e buona serata. Buona serata. Buona serata a tutti, grazie di essere venuti. Grazie a tutti. Allora, prima una breve contestualizzazione per il tredicesimo dell'inferno. Dante e Virgilio stanno percorrendo l'inferno che è una sorta di imbuto rovesciato e hanno attraversato i cerchi dove sono dannati, puniti, i peccatori incontinenti. Cioè quelli che non si sono moderati nelle loro inclinazioni peccaninose. Hanno poi attraversato la città di Dite che è quella che raccoglie i peccatori peggiori. Perché sono i peccatori che hanno fatto volutamente del male agli altri utilizzando il loro ingegno. Quindi i loro peccati sono più gravi e i supplizi ai quali sono condannati sono peggiori. Nel cerchio nel quale ci troviamo ora, il settimo, sono puniti i violenti. Nel canto precedente, che è il dodicesimo, Dante ha visitato i violenti contro il prossimo, gli omicidi e i predoni, che stanno a bagno in un fiume di sangue bollente, il Flegetonte. E l'hanno visitato in groppa al centauro Nesso che con i suoi simili custodisce il cerchio, il girone. Passa ora nel girone successivo, ma è completamente diverso. Perché non ci sono fiamme, non ci sono vapori, non c'è sangue, c'è soltanto l'ombra di un bosco. I peccatori dove sono? I dannati dove sono? Non si vedono. Non era ancor di là nesso arrivato, quando noi ci mettemmo per un bosco che da neun sentiero era segnato. Non fronda verde, ma di color fosco, non rami schietti, ma nodosi e involti, non pomi veran, ma stecchi con tosco. Non anzi aspri sterpi, né si folti, quelle fiere selvagge che nodio hanno tra Cecina e Corneto e i luoghi colti. Quivi le brutte arpie e lornidi fanno che cacciar delle strofa dei troiani con tristo annunzio di futuro danno. Ali hanno late e colli e visi umani, pie con artigli e pennuto il gran ventre fanno lamenti sugli alberi strani. È un bosco. Il bosco per l'uomo del medioevo è generalmente un'esperienza paurosa. Nel bosco ci sono le castagne, c'è la legna, ci sono le risorse, ma nel bosco ci sono anche gli spiriti maligni che sono poi le divinità pagane che sono state cacciate e marginate nell'era cristiana nei luoghi più lontani dai paesi, dai borghi. Nei boschi poi non sono mica spiriti, ci sono i lupi, ci sono gli orsi. Il bosco è un'esperienza paurosa, ma è un'esperienza che è quotidiana per l'uomo del medioevo. Ma questo bosco qui, del quale vi faccio una velocissima parafrasi, è un'esperienza estranea, straniante. Non è un bosco come gli altri. Procedo molto velocemente. Il centauro nesso, che era quello che li aveva trasportati lungo il flegetonte nel canto precedente, non era ancora ritornato al flegetonte quando noi, cioè io e Virgilio, ci mettemmo, ci inoltrammo in un bosco che era privo di sentieri, da né un sentiero era segnato. Cioè è un bosco dove non puoi che disorientarti, non ci sono punti di riferimento, non c'è direzione, quindi non c'è uscita. Non c'erano nel bosco fronde verdi, ma di colore scuro, non c'erano rami schietti, schietti vuol dire lisci, dritti, ma nodosi, inviluppati, contorti. Non c'erano frutti, pomi, ma c'erano soltanto delle spine con tosco, tosco è il veleno, spine avvelenate. Non vivono in dei cespugli, cioè boschi, né così folti, né così aspri, né così impraticabili, quelle bestie selvagge che hanno in odio, quindi evitano, i luoghi coltivati tra Cecina e Cornetto. Cecina e Cornetto sono due località della Maremma, Cecina e un fiume, Cornetto e Tarquinia. Quindi neanche in Maremma ci sono degli sterpi, degli arbusti, ci sono questi inviluppi boscosi così fitti. Teniamo presente una cosa che è tipica del modo di raccontare di Dante. Il lettore non se ne accorge subito, però Dante con le sue scelte linguistiche, con le parole che usa, con il linguaggio che usa, tende ad anticipare il tema del canto ancora prima di esplicitarlo. Cioè cerca di mettere noi lettori nel punto di vista che vuole lui, farci vedere le cose come vuole che noi le vediamo. E torna un attimo al bosco. È un bosco descritto solo per negazioni questo. È come se l'espressione, il linguaggio, muovesse sempre contro se stesso. Non rami schietti, manodosi involti, non pomi… È un linguaggio che nega continuamente se stesso e il lettore comincia ad entrare nel clima, come si dice, con un termine molto moderno. Comincia ad entrare nell'atmosfera. Poi ci sono le uniche creature che si vedono in questo bosco che sono le arpie, che sono delle creature mitologiche che vengono dalla classicità. Come sapete sono una via di mezzo tra donne e uccelli. Hanno la testa di donne e il resto è di uccello. Qui in questo bosco fanno i loro nidi le brutte, ma brutte nel senso di fetide, sozze, arpie. Quelle arpie che cacciarono i troiani dalle isole strofadi con triste annunzio di futuro danno, cioè dopo aver loro pronosticato danni futuri. Questo è un episodio del terzo libro dell'Eneide che viene citato sia per alzare il livello del discorso, come fa spesso Dante quando cita Virgilio, sia per un'altra ragione che tra un attimo vi dico. La storia delle arpie di Enea è una delle più bizzarre di tutta l'Eneide. Enea con gli altri troiani è approdato nel suo viaggio verso l'Italia alle isole strofadi. E appena arrivati imbandiscono le mense perché si deve anche mangiare quando si arriva sulla terraferma. Arrivano queste arpie in picchiata che ci crediate o no defecano sulle vivande dei troiani che immediatamente lasciano le strofadi. E' ovvio che non si può vivere così naturalmente, si allontanano. E le arpie non si accontentano di aver rovinato il pranzo ma annunciano ai troiani che stanno salendo sulle navi che un giorno avranno una tale fame che addenteranno addirittura le mense, i tavoli. Questo è il pronostico dei futuri danni, quindi proprio una brutta esperienza con queste arpie. C'è la descrizione delle arpie. Hanno le ali late, cioè larghe, i colli e i visi umani, le zampe con gli artigli e il gran ventre pennuto. Producono lamenti strani, quindi inquietanti, tra gli alberi. Tra un attimo vedremo la ragione pratica per cui ci sono le arpie, ma pensate alla lunga descrizione, tutta una terzina, che Dante fa delle arpie. Perché è così lunga? Perché vuol descriverci le arpie? Anche qui è il gioco di anticipo di Dante su quello che vedremo dopo di importante. E il buon maestro, prima che tu entri, sappi che se nel secondo girone, mi cominciò a dire, e sarai mentre che tu verrai nell'orribil sabbione. Però riguarda ben, sì, vedrai cose che torri in fede al mio sermone. Io sentia ad ogni parte trarre guai, e non vedea persona che il facesse, perché io tutto smarrito, ma restai. Dante effettivamente è proprio smarrito, ma nel senso che non sa da che parte guardare, l'abbiamo detto. Questo è un bosco nel quale non ci sono sentieri. Allora, avvertimenti di Virgilio. Prima che più entri, cioè prima di procedere oltre in questo bosco, devi sapere che sei nel secondo girone. Il secondo girone del cerchio dei violenti, il settimo. Non abbiamo ancora capito che tipo di violenti vengono puniti qui, ma tra un po' lo capiamo. Vi starai in questo girone fino a quando non arriverai all'orribil sabbione. Che è un sabbione infuocato che però sta nel girone successivo e che noi non vedremo. Ma è come dire, stai tranquillo che di qui usciamo, non temere, non ci perdiamo qui. Perciò guardati bene intorno e vedrai delle cose che torri in fede al mio sermone. Cioè che toglierebbero credibilità al mio discorso. Quindi cose alle quali non crederesti se te le dicessi io. Le devi vedere fede. Questa è una parola molto importante in questo canto, poi la ritroviamo. La preoccupazione di Virgilio, teniamolo presente, è che Dante gli creda, presti fede alle sue parole. In ultima analisi, De Virgilio ha il compito di dire la verità al suo allievo. Tenete presente anche questo. Io sentivo trarre guai, quindi emettere lamenti da ogni parte, ma non vedevo nessuno che li facesse. Per cui mi arrestai immobile, tutto smarrito. Credi io che io credesse che tante voci uscissero tra quei bronchi da gente che per noi si nascondesse. Però, disse il maestro, se tu tronchi qualche fraschetta d'una d'este piante, di pensiercai si faranno tutti monchi. Allora, porsi la mano un poco avanti e colsi un ramicel da un gran Bruno. E il tronco suo gridò, perché mi schiante? Da che fatto fu poi di sangue Bruno, ricominciò a dire, perché mi scerpi? Non hai tu spirito di pietà di alcuno. Uomini fummo, e or sian fatti sterpi. Ben dovrebbe essere la tua man più pia, se è stato fossimo anime di serpi. Come d'un stizzo verde carso sia, dall'un de capi che dall'altro geme, e cigola per vento che va via, si della scheggia rotta usciva insieme parole e sangue. Questo passaggio adesso è incongruo, eh. A me è sempre ricordato, non mi picchiare tanto forte, che è quello che dice Pinocchio quando è ancora un tronco amastro ciliegia. Anche da quel legno esce una voce. È possibile che Collodi si sia ricordato di questo canto, naturalmente. Però quella è una favola. Quella è una trasformazione che è quasi un incantesimo. Da legno a burattino, poi a persona. Questa invece è una favola nera, questa è proprio spaventosa. Ed è Dante stesso ancora, ma poi non lo ripeto mica più, eh. È Dante stesso che ce la rende spaventosa col suo linguaggio. Io credo che Virgilio avesse pensato che io a mia volta avessi creduto, credi io che credette che io credesse, che tutte quelle voci, quei lamenti che si sono sentiti prima, uscissero tra quegli sterpi emesse da anime, da gente, che si nascondesse a noi. Cioè che rimanesse nascosta a noi. Persone nascoste tra gli alberi. Perciò, disse il maestro, se tu spezzi, tronchi, qualche rametto da una di queste piante, i tuoi pensieri, cioè le tue errate convinzioni, si faranno tutti monchi. diventeranno mutilati, monchi, nel senso che si riveleranno sbagliati. Prendi un rametto, fai l'esperienza. Allora io, porsi, allungai la mano un po' avanti e staccai un ramicello da un grande pruno. Ho qui grande discussione sulla critica che il pruno che fa le prugne? No, potrebbe essere un biancospino, un melograno, un grande albero. Pruno non lo dice nessun critico, insomma, proprio delle prugne. E il tronco suo gridò, perché mi schianti? Perché mi rompi? Perché mi schianti? Dopo che si fu ricoperto di sangue scuro, ricominciò a dire perché mi scerpi? Perché mi laceri? Ma non hai nessuna pietà. Noi siamo stati uomini e ora siamo diventati sterpi dei vegetali, dei cespugli. La tua mano avrebbe dovuto essere più pietosa anche se fossimo state delle anime di serpi. Il tono, il linguaggio è davvero spaventoso, è davvero pauroso. Guardate tutti i verbi che indicano il rompere, lo spezzare. Tronchi, monchi, colsi, schianti, scerpi devono aumentare il senso della drammaticità ma anche l'espressione molto involuta e molto contorta. Credi io che credesse, eccetera. Perché? Perché è contorta come questo bosco naturalmente. Lo ripeto, non è un incantesimo. Poi capiamo che effetto faceva sul lettore del 200 una descrizione di questo tipo. Comunque abbiamo capito che l'anima sta dentro il tronco. Poi c'è una similitudine molto complicata che ci deve spiegare, io cerco di risolvere in poco, cerca di spiegare com'è possibile che il tronco parli attraverso il ramo spezzato. Ha una similitudine pseudoscientifica, io insegno al liceo scientifico, ci sia mai stato un mio studente che me l'abbia spiegata, io non l'ho mai capita, forse voi. Come avviene con un tizzone verde che venga bruciato da uno dei capi, da una delle estremità e che dall'altra estremità geme, cioè gocciola linfa e cigola e stride a causa del vapore che nesce, che va via, allo stesso modo da quella scheggia rotta, da quella corteccia ferita, quello dell'albero che protestava, uscivano insieme parole sangue. Per cui io lasciai cadere la cima il rametto e rimasi immobile come l'uomo irrettito dalla paura. È una similitudine molto complicata. Qui Dante deve fare ricorso proprio a delle risorse espressive nuove. Perché? Perché sta raccontando un abominio naturale, cioè una creatura che sta fuori dall'ordine naturale. Secondo l'ordine naturale aristotelico, che poi viene ripreso per gran parte da Tommaso d'Aquino, le specie, le specie animali, sono tutte distinte in modo nitido e gerarchizzato. Qua ci stanno gli uomini perché hanno l'intelletto, qua ci stanno le piante. Le creature ibride non sono mica concepite. Le creature ibride sono ripugnanti. Siamo noi che siamo abituati agli X-Men, al duelo di magia tra Maga Mago e Mago Merlino. Allora per noi gli ibridi non sono così terrificanti, ma per l'uomo del Medioevo sì. Questa è una forma orribile, questa di, non devo nominarlo perché non sappiamo ancora chi sia. Se li avesse potuto creder prima, rispose il savio mio, anima lesa, ciò che ha veduto pur con la mia rima non avrebbe in te la man distesa, ma la cosa incredibile mi fece indurlo ad ovra che a me stesso pesa. Ma dilli chi tu fosti, sì che invece d'alcuna ammenda tua fama rinfreschi nel mondo su, dove tornarli lece e il tronco. Sì col dolce di Ermadeschi, chi non posso tacere, e voi non gravi per chi ho un poco a ragionarmi inveschi. Io sono colui che tenne ambo le chiavi del cor di Federigo e che le volsi, serrando e diserrando, sì soavi, che dal secreto suo quasi ogni uomo tolsi fede portai al glorioso uffizio tanto chi ne perde gli sonni e polsi. La situazione, abbiamo detto, procura paura al lettore, ma questa paura viene immediatamente stemperata dal discorso di Virgilio, che è un discorso da un punto di vista stilistico alto, elegante, ma è anche rasserenante, perché comincia con una sorta di dichiarazione di scuse all'albero. Se egli, il mio allievo, avesse potuto credere prima, o anima ferita, ciò che ha conosciuto solo con la mia rima, leggendo il mio poema, perché nell'Eneide c'è un episodio che ricorda molto questo, dopo lo cito brevemente, non avrebbe mossa la mano contro di te, ma fu l'incredibilità della cosa a far sì che io lo spingessi a un gesto che a me per primo pesa. Ti chiediamo scusa, ma io devo farmi credere dal mio allievo e ribatte il discorso, lui mi deve credere, lui deve pensare che io dico la verità. La rima di Virgilio è un riferimento a un altro passo dell'Eneide, credo che sia sempre nel terzo libro, è dell'episodio di Polidoro, ma è molto celebre, me la cavo in pochissimi minuti. Quando Enea, con gli altri troiani, approda sulle coste della Traccia, deve fare un sacrificio degli dèi, quindi deve organizzare l'altare. Per adornare l'altare con delle piante, va a spezzare un ramo di un mirto. Dal ramo del mirto comincia a gocciolare sangue e una voce sotterranea dice ad Enea di scappare da quella terra maledetta, di andarsene. La voce è quella di Polidoro, che era il figlio più giovane di Priamo e che era stato ucciso a tradimento dal cognato Polinestore, presso il quale era andato per chiedere aiuto contro i greci. Polinestore l'aveva fatto uccidere. Non vi racconto tutta la storia, che è abbastanza lunga, sul luogo in cui muore cresce il mirto. Questo è il riferimento all'Eneide, ma io devo dire che dal punto di vista della tecnica narrativa, se posso dire, per quello che riguarda le trasformazioni, non è che Dante ha imparato da Virgilio, ha imparato da Ovidio naturalmente, dalle metamorfosi, ma lui fa un sacco di complimenti a Virgilio e Ovidio se lo dimentica quasi sempre. Comunque continua a parlare con l'albero, ma digli chi sei stato quando eri vivo, quando eri umano, in modo che costui, invece da alcuna ammenda, cioè come risarcimento, rinnovi il tuo buon ricordo sulla terra, dove tornare l'Ilece, lui ci tornerà. E il tronco, ma deschi, mi attiri a tal punto con le tue dolci parole che io non posso tacere, quindi dirò chi sono. E non vi dispiaccia se io mi invischio, cioè se io indugio a parlare un po' con voi. Quindi, anche questo è un linguaggio alto, eletto e si precisa anche da che spazio sociale viene, perché ad eschi e in veschi sono due termini della caccia. La caccia è l'intrattenimento dell'aristocrazia, dei principi, quindi viene da una corte questo personaggio. E infatti dopo dice chi è, con una perifrasi. Io sono colui che tenne in mano tutte e due le chiavi del cuore di Federico e che seppi girarle, aprendo e chiudendo, serrando e disserrando ovviamente il suo animo, si soavi così dolcemente che tolsi dal secreto suo quasi ogni uomo, che esclusi tutti gli altri dalla sua confidenza. Io portai fede, ecco che torna la parola, io portai fede, io fui fedele al glorioso uffizio, cioè al mio glorioso incarico, al punto che persi i sonni, cioè la pace e i polsi. I polsi non è l'uso delle mani naturalmente, ma nei polsi c'erano le vene e le arterie, quindi persi la vita per questo. Tutti i lettori di tutte le epoche, su questo non c'è dubbio, hanno identificato in Federico l'imperatore Federico II e in questo personaggio che teneva in mano le chiavi del cuore di Federico II, quindi la chiave del sì, le chiavi del no, della concessione e del rifiuto, del premio e della punizione, dell'amore e dell'odio, insomma riusciva a fargli fare quello che voleva lui, pierde le vigne. Per parlare di Federico II non basterebbero dieci serate come questa, quindi sarò brevissimo. È l'imperatore tra il 1220 e il 1250, è il figlio di Enrico VI, re di Germania e d'Italia, di Costanza d'Altavilla, che è la discendente dei Normanni, quindi lui quando diventa imperatore regna sulla Germania, sull'Italia e sul Regno del Sud. È un uomo che ha dei disegni politici molto ambiziosi, ma che falliscono tutti perché gli si rivoltano contro i principi tedeschi, i comuni italiani, il Papa sostenuto dagli Anjou, che sono gli Anjou, fallito, fallisce lui, falliscono i suoi discendenti, i suoi figli, Manfredi e Corradino. È un grande personaggio, però non c'è tempo stasera di parlare del suo programma culturale. È un uomo fuori dal suo secolo. Lo chiamavano Stupor Mundi. Era modernissimo, era un cittadino del mondo nel Medioevo. Basta, non dico altro. Per Dante è l'ultimo vero imperatore, cioè l'ultimo imperatore che vuole fare l'imperatore, cioè raccogliere tutti i popoli cristiani sotto la sua autorità. Castel San Pietro con Federico II, e arriviamo alla relazione con questa città, ha un rapporto particolare. Noi sappiamo che Federico II ci passa, si ferma più volte, dal 1219 al 1240. Non abbiamo tantissime notizie di questi passaggi, alcune ma non tante. Ma perché Castel San Pietro? Allora, i castellani immagino che lo sapranno. Castel San Pietro è un punto strategico sulla Via Emilia. È un comune rurale, si diceva, comune rurale creato dalla Bologna Guelfa, perché doveva servire come luogo di controllo dei traffici commerciali che andavano est-ovest, Via Emilia, e nord-sud, Toscana-Veneto. Ma soprattutto doveva essere la testa di ponte contro Imola, che era una città ghibellina, riottosissima, impossibile da controllare. E quindi ci voleva la testa di ponte, l'avanguardia della Castel San Pietro. Se andate a vedervi le storie di Imola e Castel San Pietro nel 200, insomma, altro che campanilismo goliardico, evito, vado oltre. Pier delle Vigne era il suo segretario, il suo, come si dice, segretario particolare. Era Logoteta e Protonotaro. In sé sarebbe stato un giurista, però noi sappiamo che assolveva anche funzioni giudiziarie, politiche. Soprattutto era lo scrittore di Federico II. Oggi si dice il ghost writer. Lui era il first writer. Era quello che gli scriveva tutti i discorsi diplomatici, le lettere, i discorsi politici, le leggi, le costituzioni di Melfi, le scritte lui. Quindi è un uomo di grandissima sapienza retorica. E infatti Dante lo fa parlare in base al suo livello retorico, in base al suo livello linguistico. Fa proprio una mimesi Dante del linguaggio di Pier delle Vigne. Io sono curguicambo, le chiavi, eccetera, eccetera, eccetera. Finisco. Le due chiavi del cuore di Federico II sono un eco scritturale, biblico, famosissimo. Allora c'è Davide che ha le chiavi della chiasa del Signore che gliele dà lui. E poi c'è San Pietro naturalmente che ha le chiavi del paradiso. Tenete presente questa immagine del clavigero che è Pier delle Vigne e del dominus il Signore che è Federico II. E Pier delle Vigne ha portato sempre fede fede al suo glorioso uffizio sempre. La meretrice che mai dall'ospizio di Cesare non torse gli occhi putti morte comune e dei ricorti vizio infiammò contra me gli animi tutti e gli infiammati infiammaro sì e Augusto che lieti onor tornarono in tristi lutti. l'animo mio per disdegnoso gusto credendo col morir fuggir disdegno ingiusto fece me contra me giusto. Per le nove radici d'esto legno vi giuro che giamai non ruppi fede al mio Signor che fu d'onor sì degno e se voi se di voi alcun nel mondo riede conforti la memoria mia che giace ancora del colpo che invidia le diede. La vicenda umana di Pier delle Vigne era piuttosto conosciuta. Nel 1249 viene imprigionato o a Pisa o in un'altra città della Versiglia credo con l'accusa di alto tradimento poi viene acceccato sempre per l'unione di Federico II Federico II lo accusa di avere tramato col Papa Innocenzo IV per avvelenarlo due volte evidentemente Dante in questo caso ritiene Pier delle Vigne innocente e dà la colpa alla meretrice adesso vi dico chi è la prostituta che non distolse mai dalla dimora degli imperatori dall'ospizio di Cesare i suoi occhi putti che vuol dire letteralmente gli occhi da puttana quell'invidia morte comune cioè che è rovina di tutti ma è vizio particolare delle corti delle corti vizio accese contro di me gli animi di tutti i cortigiani e quelli infiammati accesi a loro volta accesero Augusto che è sempre l'imperatore contro di me a tal punto che i lieti onori cioè i miei gloriosi incarichi diventarono tristi lutti cioè delle tristi sciagure l'animo mio per disdegnoso gusto cioè per un piacere amaro credendo col morire con la morte col suicidio di fuggire di sfuggire al disprezzo al discredito degli altri e adesso c'è il verso più complicato della commedia ingiusto ingiusto fece me contro me giusto rese ingiusto me colpevole me contro di me che invece ero nel giusto che invece ero innocente per le nove radici di questo legno sulle mostruose no vuol dire mai viste prima mostruose radici di questo legno io vi giuro che non ho mai tradito il mio signore che fu donorsi degno che fu così degno di essere onorato così abbiamo capito qual è il peccato che viene punito in questo girone è il suicidio cioè la violenza contro se stessi il suicida scinde l'unità fondamentale tra corpo e anima perde la propria forma e nel contrapasso diventa uno schifoso ibrido non l'ho detto prima pierde le vigne e si uccide veramente in carcere attestate contro il muro una cosa terribile ma la cosa interessante anzi le cose interessanti sono due il primo è sempre questo linguaggio eletto questo linguaggio coltissimo che però sembra confondersi ingiusto fece me contro me giusto contiene adesso non faccio la lezione contiene quattro figure retoriche il politoto l'antitesi il chiasmo la figura etimologica quattro figure retoriche in un verso cioè una sovrabbondanza senza misura di figure retoriche ma anche infiammò gli infiammati infiammar è sempre un discorso involuto ma stavolta è in bocca pierde le vigne ma anche questo far cozzare elementi linguistici alti tipo augusto cesare lieti onori con degli elementi linguistici bassissimi putti meretrici ci fa capire che al momento di parlare della sua disgrazia pierde le vigne sembra perdere il senso della misura uno dei principi della bellezza nel medioevo è proprio il senso della misura e qui il povero pierde le vigne perde proprio questo principio perde la forma non è che l'ha persa non ha perso solo la forma da uomo ha perso anche la forma linguistica in un certo senso la seconda cosa vi giuro che non mi hanno mai tradito il mio signore che fu d'onorsi degno fu d'onorsi degno allora ha creduto alle menzioni dei cortigiani l'ha fatto incarcerare l'ha fatto accecare l'ha spinto al suicidio e pierde le vigne e continua a dire che d'onorsi degno allora qui dobbiamo ritornare a quello che dicevamo prima sul pierde le vigne cortigiano di federico secondo per lui il dominus federico secondo l'onore presso il dominus la reputazione verso il dominus è un principio assoluto è come se il dominus fosse dio che gli ha dato le chiavi pierde le vigne il vignaiuolo del signore la vigna è il simbolo del patto tra dio e gli uomini nomina sun consequentia rerum nel medioevo in pierde le vigne ci doveva essere questo destino e invece non c'è stato lui ha fatto questo errore considerare dio federico secondo principio assoluto nel momento in cui veniva meno la reputazione e l'onore presso di lui la sua vita non aveva più senso un'ultimissima cosa Dante potrebbe mai fare la fine di pierde le vigne mai ma non perché chi si suicida va all'inferno che già è una ragione importante ma perché pierde le vigne è un intellettuale di corte Dante è un libero intellettuale di libero comune lui non dipende da una persona lui è libero di criticare fare proposte di votare lui è un personaggio libero l'unica entità alla quale deve render conto e alla quale deve essere fedele ma l'ha spiegato Virgilia all'inizio è la verità l'intellettuale il poeta deve dire la verità questo è il suo dovere questo è il suo officium basta nient'altro è mica male come lezione anche per gli scrittori di oggi ah scusami scusami Ivano non ho parafrasato gli ultimi traversi e se alcun di voi nel mondo riede augurale possiate ritornare almeno uno di voi due perché Virgilia non ci torna nel mondo sulla terra allora confortate la memoria mia cioè riscattate il mio ricordo la mia reputazione che è ancora abbattuto dai colpi dell'invidia un poco attese e poi da che si tace disse il poeta a me non perder l'ora ma parla e chiedi a lui se più ti piace ondio a lui domanda al tuo ancora di quel che credi che a me satisfaccia che non potrei tanta pietà ma ancora perciò ricominciò se l'om ti faccia liberamente ciò che il tuo dir priega spirito incarcerato ancor ti piaccia di dirne come l'anima si lega in questi nocchi e dinne se tu puoi s'alcuna mai di tai membra si spiega il dramma di Pier delle Vigne è esaurito però Dante ha ancora delle curiosità per così dire tra lo scientifico e il teologico spiego allora Virgilio attese un attimo e poi disse dal momento che tace non perder l'ora cioè non perder l'occasione parla e chiedigli se vuoi sapere altro e io fagli tu le domande che pensi possano interessarmi di quel che credi che a me satisfaccia perché io adesso non potrei mai parlare tanta pietà ma accora accora mi stringe il cuore la pietà per la fine di Pier delle Vigne naturalmente ma anche il fatto che Pier delle Vigne è come poi è il Dante scrittore non il Dante viaggiatore questo sta ancora nel 300 non è ancora stato esiliato ma il Dante scrittore pure lui è un innocente calunniato perché l'avevano accusato di baratteria per poter avere il pretesto per fargli il processo anche lui ha svolti il suo ufficium quando era politico e gliel'hanno fatta pagare Dante probabilmente vede un po' se stesso in Pier delle Vigne perciò le domande le fa Virgilio ma tanto Virgilio sa quali sono le curiosità di Dante se l'on ti faccia liberamente ciò che il tuo dir priega sempre educatissimo Virgilio è sempre un sé augurale possa costui Dante con la sua generosità esaudire le tue richieste spirito incarcerato ti piaccia di dirci si così cortese da dirci in che modo l'anima si leghi in questi nocchi cioè rimane inviluppata in questi nocchi in questi tronchi nodosi e dici se puoi se mai qualche anima può sciogliersi da queste membra legnose le domande sono due come è possibile che tua anima rinasci come albero e se dopo il giorno del giudizio universale quando noi recupereremo i nostri corpi voi suicidi potrete recuperare i vostri e quindi liberarvi da questi abiti legnosi allora soffiò il tronco forte e poi si convertì quel vento in cotal voce brevemente sarà risposto a voi quando si parte l'anima feroce dal corpo della stessa sedi svelta minos la manda la settima foce cade in la selva e non le parte scelta ma là dove fortuna la palestra qui vi germoglia come granti di scelta la scelta di scelta sorge in vermena e in pianta silvestra l'arpie pascendo poi delle sue foglie fanno dolore e al dolor fenestra Come l'altre verrem per nostre spoglie, ma non però qualcuna sen rivesta che non è giusto aver ciò com si toglie. Qui le strascineremo e per la mesta selva saranno i nostri corpi appesi, ciascuno al prun dell'ombra sua molesta. Piero delle Vigne adesso spiega come è possibile che l'anima rinasca in forma di albero. È una spiegazione, lo dico subito, che fuori dall'ordine naturale è una sorta di fantascienza medievale. Allora il tronco soffiò forte e poi quel vento, cioè quel fischio, quel sospire in forma di fischio si convertì in queste parole. Vi risponderò brevemente. Quando l'anima feroce contro se stessa, perché si è suicidato, quando l'anima feroce contro se stessa si parte, quindi si divide letteralmente, dal corpo dal quale essa stessa si è strappata via, continuano i verbi violenti di svelta, Minosse, che è il giudice dell'inferno, la spedisce al settimo cerchio, qui. Cade in questa selva e nessuno sceglie dove, ma laddove il caso, la fortuna, la butta lì, germoglia, veloce, come il seme del farro. A caso viene buttata nella selva, ma questo sta nel contrapasso. Il suicida ha rinunciato a governare la propria forma, per cui la propria forma diventa oggetto del caso, della fortuna, della casualità. Sorge in vermena, cioè si sviluppa come un giunco e poi in pianta silvestra, cioè in un albero, in un cespuglio, in una pianta boschiva. Dopo le arpie, nutriendosi delle sue foglie, la tormentano, producono dolore e al tempo stesso una finestra per il dolore, uno sbocco per esprimerlo. E infatti Dante ha fatto parlare Pier delle Vigne, se vi ricordate, spezzando il rametto. Poi, dopo il giorno del giudizio, come tutte le altre anime, verremo per nostre spoglie, cioè torneremo a prendere i nostri corpi dalla valle di Josafat, ma non potremo rivestircene, perché non è giusto riavere indietro ciò che noi, scientemente, ci siamo tolti. La forma, il corpo. Le invece, noi porteremo le nostre carni qui e i nostri corpi verranno appesi in questa mesta selva. Ciascuno al pruno, all'albero, nato dall'ombra sua molesta, cioè nato dall'anima che fece del male a se stessa, che fu molesta contro se stessa. Questa è la spiegazione, tanto scientifica quanto teologica. Una grande selva di impiccati, sembra. Tutti i corpi che i suicidi non hanno voluto conservare. Li troveranno, li appenderanno, scusate, agli alberi. Noi eravamo ancora al tronco attesi, credendo c'altro ne volesse dire, quando noi fummo d'un rumor sorpresi, similemente a colui che venire sente il porco e la caccia alla sua posta, code le bestie e le frasche stormire. Ed ecco due, dalla sinistra costa, nudi e graffiati, fuggendo si forte che della selva rompieno ogni rosta. Quel dinanzi, ora corri, accorri, morte! E l'altro, cui pareva tardar troppo, gridava, «Lano, sì, non furono accorte le gambe tue alle giostre dal topo?» E poi, che forse gli fallì all'alena, di sé ed un cespuglio fece un groppo. Di rietro a loro era la selva piena di nere, cagne, bramose e correnti, come veltri che uscissero di catena. In quel che sappiattò miserli denti, e quel dilaceraro a brano a brano, poi sem portar quelle membra dolenti. Fino adesso abbiamo avuto l'impressione di un canto molto statico, due persone ferme che parlano con un albero. Poi, ora, c'è un movimento che dà grande dinamicità al canto, compaiono dei nuovi personaggi e questi corrono, corrono inseguiti. Allora, noi eravamo ancora rivolti al tronco, credendo che ci volesse dire altro, quando fumo colpiti, sorpresi da un rumore. Come quell'uomo, che è il cacciatore, che sente arrivare alla sua posta, nel luogo dove lui ha postato, il porco, che è ovviamente il cinghiale, e la caccia, cioè i cani e i battitori che lo inseguono. Cosicché il cacciatore sente le bestie che fanno rumore e sente le frasche stormire. Ed ecco, biblico, ed ecco. Ed ecco apparvero due anime, sulla nostra sinistra, nude e graffiate, che fuggivano così veloci da rompere ogni rosta, ogni ramo della selva. Rosta è una delle parole aspre di Dante, cioè una parola che deve rendere un suono sgradevole. L'anima che correva davanti gridava, a corri a corri morte, sono già morti naturalmente, ma a corri a corri morte vuol dire voglio essere niente, voglio essere nulla, annientatemi. E l'altro, a cui sembrava di essere troppo lento, gli gridava, Lano, le tue gambe non sono state così veloci quando hai disputato le giostre del topo. Tra un attimo spiego. E poi che forse gli fallia l'alena, gli mancava il fiato, anche come faccia a mancare il fiato a un'anima morta, queste sono le incongruenze di Dante, forse perché gli mancava il fiato, fece un groppo, cioè fece una sola cosa di sé e di un cespuglio, cioè si nascose dentro un cespuglio. Il personaggio che viene nominato da quell'altro è Lano ed è Ercolano Macconi da Siena, i lettori l'hanno identificato in questo modo. Ercolano Macconi da Siena morì non durante le giostre del topo, ma morì a pieve del topo durante una scaramuccia tra Senesi e Aretini nel 1289. Gli Aretini avevano fatto la guata ai Senesi e Ercolano Macconi era con loro. Lui era famoso a Siena, era un amico di Cecco Angiolieri, il poeta, e faceva parte di una famosa brigata spendereccia. Le brigate spenderecce erano dei gruppi di giovani, di famiglie molto ricche, che, dico la parola, dopo si capisce, scialacquavano i loro patrimoni al gioco, o nel mangiare, o comunque nell'ostentare la loro ricchezza. E così aveva fatto lui. aveva sperperato tutto il suo patrimonio, pare al gioco. Avevano capito che queste sono anime, non di suicidi, non sono mica alberi, corrono. Questi sono gli scialacquatori, quelli che hanno distrutto il patrimonio. Hanno fatto violenza contro le cose. E uno pensa, il patrimonio è il mio, faccio quello che mi pare. No, perché nella mentalità religiosa del Medioevo, il patrimonio, Dio, te lo dà in disponibilità. Ma non perché tu ci faccia quello che vuoi, perché tu ci faccia delle opere di bene. È la giustificazione per opere, È il concetto di giustificazione per opere. Tu devi usare il tuo patrimonio come ci insegna Dio. Non lo puoi distruggere. Dietro di loro la selva era piena di cagni nere, affamate, correnti, quindi veloci, scatenate, come dei veltri. I veltri sono i cani da caccia, fate finti segugi. Come dei segugi appena liberati dalla catena, quindi aggressivi, mollati dalla catena sul momento. Nell'anima che si era appiattata, nel cespuglio misero i denti, cioè l'addentarono. E poi dilacerarono tanto il cespuglio quanto l'anima, pezzo per pezzo. E si trascinarono via quelle membre dolenti. Ciò che rimaneva di quelle membra. Presemi allora la mia scorta per mano e menommi al cespuglio che piangea per le rotture sanguinenti in vano. Oh Jacopo, dicea, da santo Andrea che t'è giovato di me fare schermo, che colpo ho io della tua vita, rea. Quando il maestro fu sovresso fermo, disse chi fosti che per tante punte soffi con sangue e doloroso sermo ed è lì a noi. O anime che giunte siete vedere lo strazio disonesto che ha le mie fronde si da me disgiunte raccoglietele al piede il tristo cesto. I fui della città che nel Battista mutò il primo padrone un dè per questo sempre con l'arte sua la farà trista. E se non fosse che in sul passo d'Arno rimane ancor di lui alcuna vista quei cittadini che poi la rifondarno sopra il cener che datti la rimase avrebbero fatto lavorare in Darno. Io fei gibetto a me delle mie case. uno dei due dannati non sappiamo che fine ha fatto l'altro si è nascosto nel cespuglio e le cagne l'hanno lacerato ma hanno lacerato pure il cespuglio che infatti si lamenta. Allora la mia scorta cioè Dante Virgilio ovviamente mi prese per mano e mi condusse al cespuglio che piangeva in vano attraverso le rotture sanguinanti e il cespuglio si lamenta Oh Jacopo da Sant'Andrea che ti è servito usarmi come nascondiglio che colpo ho io della tua vita di peccatore. Jacopo da Sant'Andrea di Codiverno è un altro noto scialacquatore del 200. Questo era un personaggio davvero importante perché era stato anche nella corte di Federico II era un padovano di lui si narrano delle storie che davvero hanno dell'incredibile ad esempio aveva invitato a cena degli amici poi perché non si smarrissero durante il ritorno perché evidentemente avevano pure bevuto fa incendiare tutti i casolari sulla strada in modo che i suoi amici possano vedere dove vanno. Un'altra volta incendia una sua villa dice perché aveva voglia di vedere un bel fuoco ma sono vere sono false chi lo sa perché queste sono le notizie trovate dai commentatori non hanno una vera e propria documentazione storica però è interessante la scelta che fa Dante di questi personaggi degli scialacquatori Dante vi ricordo è un critico feroce della civiltà del soldo del fiorino cioè della civiltà che cresce sugli affari sui commerci sulle banche perché la ritiene una società corrotta non si rende conto che è da questa società che poi nascono le grandi città del 400 e del 500 e quella che si può chiamare la classe borghese moderna non se ne rende conto e lui parla di questi uomini così attenti alle virtù del risparmio dell'imprenditoria eccetera eccetera come dei nevrotici sviluppano questo tipo di manie di nevrosi scialacquano tutto si può leggere anche in questo modo il passaggio ma adesso dobbiamo capire chi è il personaggio che è un suicida evidentemente che è stato lacerato da Jacopo da Sant'Andrea Jacopo da Sant'Andrea è finito male è stato fatto uccidere da Ezzelino da Romano che era il terrificante signore di Padova molto conosciuto quando il maestro si fu fermato presso il cespuglio disse chi sei stato tu da vivo tu che attraverso tante punte cioè tanti rami spezzati soffi fuori assieme al sangue queste dolorose parole questi lamenti ed egli ci rispose o anime che siete giunte qui che vi siete avvicinate per vedere da che strazio sono state afflitte sconvolte schiantate così usiamo il termine dantesco schiantate le mie fronde vi prego raccoglietele ai piedi di questo tristo cesto del mio sciagurato cespuglio è un atto di pietas vegetale non ricomponete le mie spoglie ricomponete le mie foglie ricomponete i miei rami poi nel canto successivo Dante e Virgilio lo accontentano e adesso è il momento di dire chi è non lo dice io vengo da quella città che nel Battista mutò il primo padrone cioè da quella città che ha assunto come secondo patrono San Giovanni Battista evidentemente abbandonando il primo patrono lo dico subito la città è Firenze il primo patrono di Firenze secondo la tradizione storica che segue Dante naturalmente era Marte in età cristiana ovviamente Firenze ha cambiato patrono ed è diventato San Giovanni Battista Ondei è questo primo patrono perché è stato come tradito sempre con l'arte sua la farà trista l'affliggerà sempre Firenze questa città con la sua arte che è la guerra naturalmente e Dante qui fa chiaramente riferimento alle guerre civili Guelfi Ghibellini prima Guelfi Bianchi Guelfi Neri dopo e se non fosse che sul passo d'Arno cioè sul ponte sull'Arno che è il ponte vecchio rimane ancora alcuna vista qualche vestigio qualche traccia qualche simulacro di questo primo padrone simulacro al quale tributare i sacrifici di sangue quelli delle guerre civili quei fiorentini già lo traduco quei fiorentini quei cittadini che la rifondarono la ricostruivano ricostruirono sopra le macerie che rimasero dopo il passaggio di Attila avrebbero lavorato in vano perché Marte l'avrebbe distrutta di nuovo non l'ha distrutta perché i fiorentini continuano a tributargli il sangue delle vittime in realtà questo vestigio questa statua di Marte che sarebbe rimasta sul ponte vecchio non c'è mai stata c'è stata un pezzo di una statua di un re goto probabilmente che era stata installata sul ponte vecchio quindi non di Marte si è mai visto Marte a cavallo no era un'altra statua ma anche qui Dante segue una certa tradizione per una ragione che è più che evidente che dico tra un attimo peraltro questa statua è stata cancellata dall'alluvione del 1333 quindi proprio non sappiamo che roba fosse ma Firenze non è stata mica distrutta da Attila Firenze è stata assediata da Totila durante la guerra greco-gotica bizantino-gotica ma Totila manco l'ha presa ma anche qui è sempre per rappresentare Firenze come una città che trassuda sangue e violenze come se avesse una maledizione sopra di sé o adesso si nominerà questo personaggio capiremo chi è no perché l'ultimo verso è io fei gibetto a me delle mie case gibetto è una parola francese da gibet gibet era il luogo a Parigi dove venivano impiccati i condannati a morte quindi il verso suona come io resi le mie case il luogo del mio patibolo cioè io mi sono impiccato in casa lui non ci dice chi è ci dice quello che ha fatto perché l'ha lasciato anonimo Dante ma è ovvio perché questo è un individuo emblematico della città che si suicida ogni giorno che causa le sue guerre civili insensate volute da Marte ma no ma volute dagli uomini naturalmente si uccide costantemente trafigge costantemente se stessa ecco perché è anonimo poi i soliti studiosi che a volte potrebbero anche impiegar meglio il loro tempo si sono buttati a riconoscere ma chi è costui chi è costui nei libri di scuola qui vedo anche degli studenti degli ex studenti c'è scritto che questo era l'otto degli angli che era un giudice fiorentino che corrotto per far condannare a morte un innocente poi si era impiccato per il rimorso è anonimo Dante voleva che rimanesse anonimo perché lui ve l'ho detto è il fiorentino è il fiorentino della Firenze di Dante e su questa nota molto tetra il il suicida che muore da solo in casa sua abbiamo finito il canto adesso Ivano ce lo legge dall'inizio alla fine non era ancora di là nesso arrivato quando noi ci mettemmo per un bosco che da neun sentiero era segnato non fronda verde ma di color fosco non rami schietti ma nodosi involti non pomi veran ma stecchi con tosco non ansi aspri sterpi né si folti quelle fiere selvagge che in odio hanno tra Cecina e Corneto i luoghi colti qui vi le brutte arpie l'ornì di fanno che cacciar dell'estrofa dei troiani con tristo annunzio di futuro danno ali annolate e colli e visi umani pie con artigli e pennuto il gran ventre fanno lamenti in sugli alberi strani e il buon maestro prima che tu entri sappi che sei nel secondo girone mi cominciò a dire e sarai mentre che tu verrai nell'orribile servione però riguarda ben si vedrai cose che torriam fede al mio sermone io sentii ad ogni parte trarre guai e non vedea persona che il facesse perché io tutto smarrito ma restai credio che i credette che io credesse che tante voci uscisse tra quei bronchi da gente che per noi si nascondesse però disse il maestro se tu tronchi qualche fraschetta d'una d'este piante di pensier che hai si faranno tutti i monchi allora porsi la mano un poco avanti e colsi un ramicel da un gran pruno e il tronco suo gridò perché mi schiante da che fatto fu poi di sangue Bruno ricominciò a dire perché mi scerpi non hai tu spirito di pietà di alcuno uomini fummo e or si han fatti sterpi ben dovrebbe essere la tua man più pia se state fossimo anime di serpi come d'un stizzo verde carso sia da l'un decapi che dall'altro geme e cigola per vento che va via si della scheggia rotta usciva insieme parole e sangue ond'io lasciai la cima cadere estetti come l'uomo che teme se gli avesse potuto credere prima rispose il savio mio anima lesa ciò che ha veduto pur con la mia rima non avrebbe in te la man distesa ma la cosa incredibile mi fece indurlo ad ovra che a me stesso pesa ma dilli chi tu fosti si che invece da alcuna ammenda tua fama rinfreschi nel mondo su dove tornare l'ilece e il tronco si col dolce dir madeschi che non posso tacere e voi non gravi per chi io un poco ragionarmi inveschi io son colui che tenni ambo le chiavi del cor di federigo e che le volsi serrando e diserrando si soavi che dal secreto suo quasi ognuom tolsi fede portai a glorioso uffizio tanto chi ne perde i sonni e i polsi la meretrice che mai dall'ospizio di Cesare non torse gli occhi putti morte comune ed ricordi vizio infiammò contra me gli animi tutti e gli infiammati infiammarsi augusto che liete onor tornaro in tristi lutti l'animo mio per disdegnoso gusto credendo col morì e fuggir disdegno ingiusto fece me contra me giusto per le nove radici di sto legno vi giuro che giammai non ruppi fede al signor mio che fu d'onor sì degno e se di voi alcun nel mondo riede conforti la memoria mia che giace ancor del colpo che invidia le diede un poco attese e poi da che si tace disse il poeta a me non perder l'ora ma parla e chiedi a lui se più ti piace un dio a lui domando al tuo ancora di quel che credi che a me satisfaccia chi non potrei tanta pietà ma ancora perciò ricominciò se l'uomo ti faccia liberamente ciò che il tuo dir priega spirito incarcerato ancor ti piaccia di dirne come l'anima si lega in questi nocchi e dinne se tu puoi s'alcuna mai di tai membra si spiega allora soffiò il tronco forte e poi si convertì quel vento in cotal voce brevemente sarà risposto a voi quando si parte l'anima feroce dal corpo della stessa sedisvelta minos la manda alla settima foce cade in la selva e non le parte scelta ma la dove fortuna la palestra qui vi germoglia come grandi spelta sorge in vermena e in pianta silvestra l'arpie pascendo poi delle sue foglie fanno dolore al dolor fenestra come l'altre verrem per nostre spoglie ma non però che alcuna si rivesta che non è giusto aver ciò che l'om si toglie qui ne strascineremo e per la mesta selva saranno i nostri corpi appesi ciascuno al prun dell'ombra sua molesta noi eravamo ancora al tronco attesi credendo c'altro ne volesse dire quando noi fummo d'un rumor sorpresi similemente a colui che viene sento il porco e la caccia alla sua posta code le bestie e le frasche dormire ed ecco due dalla sinistra costa nudi e graffiati fuggendosi forte che dalla selva rompiene ogni rosta quel dinanzi ora corri corri morte e l'altro cui pareva tardar troppo gridava l'amo si non furono accorte le gambe tue alle giostre del topo e poi che forse li fallia l'alena di sé ed un cespuglio fece un groppo da rietro a loro era la selva piena di nere cagne bramosi e correnti come veltri cusciser di catena in quel che sappiattò miserli denti e quel dilaceraro a brano a brano poi se importare quelle membro addolenti prese mi allora la mia scorta per mano e mi non mi al cespuglio che piangea per le rotture sanguinenti in vano o Jacopo dicea da santo Andrea che te giovato di me fare schermo che colpo io della tua vita rea quando il maestro fu soffresso fermo disse chi fosti che per tante punte soffi con sangue doloroso sermo ed egli a noi o anime che giunte siete a vederlo strazio disonesto che alle mie fronde si da me disgiunte raccogliete le al pie del tristo cesto i fui della città che nel batista mutò il primo padrone un dèi per questo sempre con l'arte sua la farà trista e se non fosse che in sul passo d'arno rimane ancora di lui alcuna vista quei cittadini che poi la rifondarno sovra il cener che datti la rimase avrebbero fatto lavorare in d'arno io fei gibetto a me delle mie case ha prestato la sua voce infernale a Dante Ivano Marescotti grazie io sinceramente ho ascoltato con grande attenzione perché noi leggiamo noi studiamo abbiamo studiato poco al liceo un po' l'inferno poco il purgatorio e per niente il paradiso in genere qualche verso e qualche canto lo conosciamo anche molto bene noi ravennati poi naturalmente ma ci sono dei canti che non conosciamo molto bene conosciamo i personaggi per delle vigne ma non ci ricordiamo bene ebbene come vedete io sono veramente io ringrazio il professore perché effettivamente si capisce qua come l'endecasillabo sia una specie di contenuto incredibile di significati che si aprono e ci vuole un quarto d'ora per spiegare ogni verso perché è pieno enorme di significati con poche parole perché per fare un endecasillabo significante così tanto ci vuole molto tempo per parafasare quello che disse ti scrivo lungamente perché non ho il tempo per essere breve cioè ci vuole naturalmente così tanto e questo è Dante grazie a voi grazie a tutti buona serata grazie grazie a tutti grazie a tutti